È un'opera fra le più celebri e straordinarie del rinascimento italiano, favola bitologica che incarna la bellezza ideale. È la primavera di Sandro Botticelli, oggi conservata alla Galleria degli Uffizi a Firenze, narrata anche ad Alessandria nell'ambito di un evento organizzato dall'amministrazione provinciale insieme a San Paolo Patrimonio. È stata la giornalista Cristina Antoni a spiegare la genesi dell'opera, fedelmente riprodotta dalla bottega artigiana Tifernate di Città di Castello, l'unica autorizzata a realizzare copie d'autore a tiratura limitata con tecnica pittografica. Un'occasione speciale per chi ha assistito all'incontro di entrare dentro la storia della tela dal valore inestimabile, inizialmente creata per la Villa Medicea di Castello. Fu Giorgio Vasari che diede il titolo, riferisce di averla vista nel 1550 accanto alla nascita di Venere. Il pomeriggio culturale alessandrino è proseguito con la dissertazione di Giorgio Coniglio, consulente di San Paolo Patrimonio, su una serie di opere letterarie emblema per il bel paese, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, di cui ricorrono nel 2023 i 150 anni dalla sua scomparsa.